ciao ragazzi oggi giocheremo a clash royale oggi giocheremo a clash royale allora adesso il cugino aspetta chi fa un giovane aspetta non c'è facciamo quando lo faccio è affettato allora adesso quando siamo scassi ci dobbiamo buttare di fobola perchè quando viene scassi si deve buttare cominciamo qui si mia c'è un non il Grazie a tutti 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 Grazie a tutti